Domenica scorsa a Novara si è svolta la prima assemblea ordinaria dei soci di Banco BPM, una prima uscita ufficiale nella quale l'amministratore delegato Giuseppe Castagna si è rivolto agli azionisti fiducioso di restituire loro il prima possibile le soddisfazioni che tanto hanno pazientato, ovvero un ritorno a un dividendo, ed escludendo un nuovo aumento di capitale poiché, ha ribadito la D, sono in corso importanti manovre che riguardano nostra società prodotto che possono assicurare importanti plusvalenze. Nel frattempo, pochi giorni fa, si è costituita a Verona l'associazione soci Banco BPM con lo scopo di favorire la conservazione e l'organizzazione dell'azionerato diffuso in tutti i territori storici di radicamento delle banche popolari confluite nel nuovo istituto e favorire la crescita della nuova banca. Siamo convinti di essere interpreti del nostro territorio, quindi portatori di valori, portatori di interesse per lo stesso e per questo abbiamo costituito questa associazione, e convinti di poter dare un contributo al nuovo neonato istituto Banco BPM. Cercheremo di allargare questa nostra azione, sicuramente sugli altri territori, di essere appunto aggreganti e indubbiamente condividere questi nostri interessi. Soci della neonata associazione e soci del Banco BPM si incontreranno nuovamente domani sera alle 18 nella sede della banca, in piazza Nogara a Verona, per la nona settimana veronese della finanza, alla quale presenzierà il presidente Carlo Frattapasini, seduto al tavolo con il presidente di Cattolica Assicurazioni Paolo Bedoni e il direttore generale di Fondazione Cari Verona Giacomo Marino.